Grazie a Bologna, a due giorni dalla visita di Prodi che ha fatto il Sondosment per Gentiloni e Insieme e ha detto che voi sbagliate perché dividete la sinistra. Allora, con questa pessima legge elettorale, chiunque dà il sostegno, il voto alle liste Insieme o alla lista Bonino non fa che votare Renzi e quindi il governo di Renzi con Berlusconi. E se Renzi ha detto che bisogna atturarsi il naso anche per votare PD, non c'è dubbio che anche Prodi si dovrà atturare il naso per votare a Bologna Casini e non certamente Errani. E questo è il risultato di una legge elettorale voluta da Renzi, Berlusconi e Salvini. Allora, Gentiloni non dimentichiamo che quello che ha posto tre fiducia alla Camera e cinque fiducia al Senato per approvare una legge elettorale che è una legge elettorale truffa perché come abbiamo visto si dà un voto a una lista e si eleggono altri di un'altra lista.